È un momento per stare insieme e divertirsi, ci sarà musica con Clarissa Vicky. Con questa cena noi permetteremo a tre donne ugandesi residenti in un piccolo villaggio che si chiama Moroto in Karamoja di aprire la loro attività lavorativa e quindi di poter migliorare radicalmente le loro vite. Sono tre donne che hanno fatto un corso da OS e sono riuscite a diventare OS all'interno di questa comunità e si appoggiano ad un locale comprato da Africa Mission. Quindi diventa per noi essenziale poter contribuire a questa loro attività in quanto è una comunità che vive principalmente di pastorizia. Quindi queste tre ragazze, grazie anche alla nostra cena e alla nostra generosità, potranno acquistare prodotti, strumentazioni medicinali che permettano la cura di questi animali che sono la sussistenza dell'intera comunità di Moroto. Quindi diventa per noi ovviamente un modo per stare insieme, per conoscerci, per ascoltare come diceva la Presidente, musica dal vivo perché ci sarà Clarissa Vicky quindi una voce meravigliosa e conosciuta a Pesaro e quindi vi aspettiamo il 16 novembre all'Hotel Flaminio, numerosi, perché dobbiamo essere tantissimi sia per stare insieme sia per contribuire a questa grande iniziativa. Grazie. Grazie. Grazie.